Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arretti. Tanto design, anche con le termocucine con radi. Ma le novità non riguardano solo il design. Anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio, a Sant'Arsenio.